E' un assedio, un'ossessione, messaggi continui, lettere deliranti, telefonate a tutte le ore, la sua presenza sotto casa tua. Intorno a te cresce una prigione invisibile. Tutto questo oggi è un reato. Si chiama Stulkin. Ora c'è un modo per uscire da questa prigione. Denuncia chi ti perseguita. Riprenditi la libertà. Riprenditi la libertà.